Da lunedì prossimo, 18 novembre, prendono il via le attività di orientamento per coloro che intendono avviare o ampliare un'impresa sul territorio cittadino. Ad offrirle a titolo gratuito saranno contabili e commercialisti in virtù di una convenzione sottoscritta a maggio scorso con il Comune. Basta fissare un appuntamento inviando richiesta all'indirizzo di posta elettronica microcredito chiocciolacomune.napoli.it per incontrare gli esperti messi a disposizione dall'ordine e ricevere una consulenza anche sulle possibilità di accesso a forme di credito agevolato o sulla partecipazione a bandi. Mettere a disposizione della città e quindi dei giovani che vogliono in qualche modo affacciarsi al mondo dell'imprenditoria mettiamo la nostra competenza, la nostra professionalità, siamo dei tecnici ed è sicuramente un segnale di fiducia che vogliamo dare a questa città martoriata da tantissimi problemi. Il servizio parte non a caso in vista dell'imminente pubblicazione del bando regionale per l'accesso al microcredito. Da lunedì i professionisti saranno presenti in giorni d'orari concordati presso gli uffici del Servizio Mercato del Lavoro e in corso Umberto Primo 23. In questo modo garantiamo consulenza, garantiamo preparazione a queste ragazze e questi ragazzi e soprattutto persone in grado di prenderle per mano e di insegnare loro a governare un processo come l'autoimprenditorialità del quale spesso è facile parlare ma non sempre altrettanto facile avere una risposta conseguente.